Perfetto ragazzacce ragazzacce qui si può continuare si può continuare su Sword Art Online All of Realization però allora io avrei voluto livellare un po' no però poi purtroppo non ho potuto farlo non ho potuto per il semplice motivo che se no magari se andavo qui la missione andava avanti e poi voi qualcosa vi perdavate sicuro allora vediamo un po' vediamo un po' Vabbè andiamo anche se secondo me qui la missione adesso sarà che sarà che loro inizieranno a parlare e staremo qui venti minuti ad ascoltare loro e di missione non farò nulla non dipende da me dipende dal gioco vediamo un attimino Forse mi sbaglio forse mi sbaglio eh vediamo un po' Ok vabbè non mi dire est sud ovest Che poi non ci si capisce nulla vediamo un attimino Ah ok no no eh ragazzi questa volta ho ho ben sbagliato perché ehm mi sta dando la destinazione giusta subito Però Eh da che parte vado Da che parte vado ragazzi e questo è il problema Da che da che parte vado in che direzione vado eh che ne so adesso Sinceramente Ma vediamo Vabbè qui non mi conviene Non conviene livellare ragazzi qui per il semplice motivo che Da pochi punti esperienza Da pochi punti esperienza si Veramente me ne da pochi punti esperienza Io non so se la direzione è quella corretta eh Perché questo qui non posso Saperlo Ma Non c'è una mappa dove magari mi spiega meglio Mi fa vedere la destinazione giusta Ah no qui devo andare Ah non lo posso utilizzare Vediamo un po' eh No vabbè Scendiamo da questa direzione Vabbè più che scendiamo secondo me bisogna Salire Vediamo eh No perché per la missione comunque bisogna andare dove c'è il punto esclamativo Ma questo oramai lo sappiamo E a conti fatti E a conti fatti dovrebbe essere Dovrebbe essere qui Entriamo Qui e poi Forse Siamo nella missione che ci viene chiesta di fare Io voglio solo ben sperare questo Perché sennò veramente Veramente non riesco ad immaginare Insomma Allora Vediamo un po' Di che livello sono qua i nemici? No vabbè livello 15 ragazzi Non ce ne facciamo Non ce ne facciamo nulla eh Non ce ne facciamo veramente nulla Vediamo un attimo Vediamo un attimino Ok ora spero di aver fatto la strada Giusta Corretta Per non farvi perdere Tempo Devo perdere tempo io E ne dovete perdere tempo voi Vediamo eh Eh forse ho sbagliato ragazzi Forse ho sbagliato Vediamo eh Eh sì Perché non posso utilizzarlo Perché Che bordello ragazzi ora Che bordello Andiamo qui Troveremo la direzione giusta tra poco eh E voglio ben sperare Voglio ben sperare Allora Vediamo un attimino Ho qualche dubbio eh Che sto andando per la direzione giusta Corretta però Però Non aggiungo altro Prima o poi la troveremo la strada ragazzi Non vi preoccupate perché Prima o poi la troveremo eh Voi non vi preoccupate Allora vediamo un po' Ho detto io Eh tranquilli Allora vediamo un po' 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 Allora vediamo Allora vediamo un po' Allora vediamo un po' Allora vediamo un po' Allora vediamo un po' Allora vediamo Allora vediamo un po' 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 Allora vediamo Allora vediamo un po' Allora vediamo un po' Allora vediamo Allora vediamo un po' 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 è stato un po' di più quindi è stato un po' di più quindi abbiamo fatto un po' di più ma non è stato un po' di più è stato un po' di più prima di cercare ci sono che ci sono che ci sono Grazie per la visione 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 Tanto comunque fa parte della storia Ragazzi bisogna seguirlo E ascoltare soprattutto Vediamo un attimino Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti